Cambio della guardia nella parrocchia personale di San Michele degli Ucraini, terminato il periodo di nove anni stabilito dalla convenzione tra il nostro arcivescovo e l'arcivescovo di Ivano Franchivski in Ucraina, Don Andriy Zybursky lascia l'incarico di parroco della comunità ucraina di rito bizantino che ha sede nella chiesa di San Michele dei Leprosetti. Gli succede Don Mikhailo Boiko, del clero dell'arcieparchia di Ternopil-Sboriv. Durante le celebrazioni di domenica, il vescovo Monsignor Dionisio Slachovitz, visitatore apostolico degli ucraini, ha presentato ai fedeli il nuovo parroco al quale successivamente il nostro arcivescovo Monsignor Matteo Zuppi conferirà formalmente il mandato parrocchiale. Don Andriy ritorna in Ucraina a disposizione dell'arcivescovo di Ivano Franchivsk nella cui diocesi è incardinato.